Il mio personaggio è stato resettato E appunto la picca e la spada sono andate perse e anche i meloni ma non importa per quello E qui ho giusto un brewing stand che avevo craftato E quello che ho dovuto fare è ridarmi con la creative mode quei due item e mettere un enchantment a caso Quindi voglio mostrarvi cosa mi è uscito, questa è per la spada e questa è per la picca E visto che avevo una blaze rod e avevo già craftato il brewing stand mi sono dovuto ridare anche quello Come ho detto nello scorso episodio oggi andremo a lavorare alla nostra stanza delle pozioni Che ho deciso di farla da questa parte perché molti di voi mi chiedono perché non utilizzo questa parte della mia caverna e mi sono fermato solo qua Beh il primo motivo è che c'è tutta quest'acqua e ci sarebbe un bel po' di lavoro da fare qua E se ci mettiamo a lavorare molto su questa parte non andremo mai avanti perché potete vedere che è a cerchio qua Ed è una cosa che mi piace molto però poi qua va giù stretta in un'altra area molto più grande che non ho neanche esplorato del tutto Quindi questo è il primo motivo e secondo perché appunto c'è tutto questo casino enorme con l'acqua E per fissare tutto il terreno lì sopra ci mettermo un bel po' di tempo Quindi ho deciso che visto che stiamo continuando a fare cose qua sui muri Quindi qua abbiamo la farm, poi qui abbiamo il nostro distruttore di bar che non ho ancora deciso un nome vero e proprio Forse alla fine di questo episodio li mettiamo un nome Quindi ho deciso di fare la nostra stanza delle pozioni qua dove c'è questa torcia Quindi ho deciso di farla un po' diversa da cosa faccio di solito Quindi non una porta grande 1 ma grande 3 E ho deciso di farla circa o più o meno tonda per quanto si può dire tondo in minecraft E ho deciso di farla prima che rientra così due blocchi Quindi la faccio con voi così non vi perdete nulla Quindi potete vedere che siamo rientrati per due blocchi Poi rientrare ancora due blocchi Quindi facciamo la stessa cosa da entrambi i lati E non voglio fare la porta più grande perché un 3x3 è già piuttosto grande come portone o come entrata Però quello che vi voglio chiedere è come volete che ha... Che ha... Come posso dire Che decoro, si si può dire Questo posto Fra un po', dopo che ho finito di scavare l'esterno di questa cosa Qua poi cambierò i blocchi e vi mostrerò due stili diversi Di qua tipo farò uno stile, di qua l'altro e lascerò il centro neutrale Così da potervi far scegliere a voi come farò la decorazione di questo posto E potete vedere che praticamente quello che ho fatto è andare dentro due Dentro ancora due, fuori due E qua faremo un buco 3x3 Quindi replichiamo quello che c'è di là Quindi è perfettamente uguale Quindi questa parte qui è uguale a questa E quello che farò adesso sarà andare a prendere appunto i blocchi che mi serviranno per fare il tutto Il primo stile sarà un stile con i blocchi del nether Quelli... i nether brick, quelli un po' più scuri E sandstone Perché appunto sono un blocco veramente molto scuro E la sandstone che è un colore chiaro pallido E dall'altra parte sarà uno stile classico come quello che sto usando per tutta la caverna Quindi con questi brick qua, il legno, l'obsidian Quindi qualcosa di più classico di minecraft più vecchio Quindi faccio questo ambaradam che mi è venuto in mente e torno subito da voi Ok, prima che vado avanti, giusto uno sneak peek Vi farò vedere che sto cambiando una cosa Qua sto diminuendo la grandezza della porta perché mi sono accorto che non è simmetrico Potete vedere che qua ci sarebbe stata una colonna qui E qua in realtà la colonna non c'era Quindi quello che faccio è diminuire la porta di grandezza di uno E qua potete vedere già come ho iniziato a lavorare alla nostra cosa E questo è come sembrerà dopo Quindi così è come sarà il tutto Però potete vedere che così non è proprio uguale E dovrei avere una cosa un po' diversa Quindi per mostrarvi veramente come sarebbe questa cosa Dovrò fare l'intera piazzetta o cosa Per appunto mostrarvi come sarà fatta la stanza Quindi quello che farò sarà fare tutta la stanza prima in un modo Quindi in questo modo E poi tutta la stanza nel secondo modo Quindi ci metterò un po' più di tempo Ma per voi sarà neanche mezzo secondo Quindi torno subito a voi Ok, ho appena completato il primo stile Sono dovuto andare a prendere un po' più di obsidian Perché non ne avevo abbastanza E questo è come sembra Legno e brick di stone Con la glowstone per l'illuminazione Qua ci sono delle ceste che serviranno appunto per mettere gli oggetti E dietro c'è altro legno E qua su questi lati potremmo metterci i cartelli Dicendo cosa c'è in questa, cosa c'è in quella, eccetera, eccetera O cosa c'è in questa parte della cesta E cosa c'è in questa parte, eccetera, eccetera Quindi le ceste saranno le uniche cose che non si sposteranno E anche i brewing stand ce ne saranno Altri due devo solo farli E l'unica cosa che non cambierà sarà anche la glowstone sopra Perché la voglio tenere perché serve appunto per l'illuminazione E fa un'illuminazione perfetta Che viene fuori perfetta fino a qua Quindi mi piace l'illuminazione che ho in questo momento Questo diciamo che è il pattern o lo stile numero uno Quindi se volete votare per questo stile Dite numero uno nei commenti Ora andrò a fare il secondo stile Che è veramente diverso Però ricordo anche questo un po' E tornerò da voi appena ho finito Ok, questo è il secondo stile Potete vedere che è molto molto diverso da quello di prima Ora abbiamo molta più differenza di colori Abbiamo il marrone dei muri Anche dietro le ceste potete vedere E al posto di brick questi qua Abbiamo quelli del nether Che sono un po' più scuri E sono un po' più Rovinati diciamo Hanno più righe Su di essi C'è sempre l'illuminazione con la glowstone Però il terreno che cambia molto Da L'esterno a qua È fatto con Con la sandstone E ho usato sandstone normale Perché non serviva Utilizzare una sandstone speciale Perché appunto Non vediamo i lati Vediamo solo sopra Quindi se volete votare questo secondo Secondo stile Secondo setup Dite nei commenti Secondo O dite alla fine del vostro commento Che preferite questo secondo stile Sinceramente a me piace molto di più questo Perché si vede di più La differenza fra il Fra il sign E il muro dietro Quando invece con questo Stile qua Si vede molto di meno O appunto Si fonde molto più semplicemente Con il muro Però alla fine i sign Ci servono Per essere visti Proprio così Alla svelta Per appunto sapere Dove sono i nostri item Quindi Sta tutto a voi Decidete quello Che volete Per ora Lo lascio in sospeso Così Non rovino niente Per ora Lo lascio così Poi se voi decidete L'altro stile Lo cambierò Quindi Per quello Siamo in sospeso Per la vostra scelta O Per la scelta Dell'audience Quindi ora Andremo Non solo a mettere giù Tutte queste cose Che non ci servono Magari mettiamole anche Nelle ceste giuste Ovviamente Sono sempre incasinato Con le ceste Quindi dovete Scusarmi Io no Chiedermi scusa Stavo per dire Chiedermi scusa Ma vabbè Quindi Ora andiamo A fare una cosa Un po' speciale Non sono sicuro Di avere Un bucket Normale Da qualche parte Controlliamo No Questi sono di lava Ah no Eccolo qua Un normale Perfetto E ho preso La cosa sbagliata Perfetto Ancora meglio Quindi ora Andrò a prendere Un bucket Di acqua Ed andrò Finalmente Al nostro deserto Per appunto Fare delle cose speciali Prima di partire Mi converrebbe Non solo Prendere Una picca in più Perché ci servirà Se magari Non mi lagga Minecraft Come un cavallo Anche se i cavalli Non so come laggino Quindi Craftiamo Una picca In più E magari Anche una pala Potrebbe essermi utile Sì Facciamo anche una pala Quindi Una pala Così E ovviamente Avete visto Che ho dovuto Craftare Una picca In diamante Perché Non avevo Non avevo più La mia vecchia picca Perché era stata usata Del tutto E prima di andare Voglio prendere Anche un bel po' Di torce E forse qualcuno Avrà già capito Perché Perché come avevo detto Un bel po' Di tempo fa Con Il deserto Ci servirà Per Una farm Di sabbia E tanti di voi Conosceranno Il vecchio metodo Di prendere sabbia Grazie a Al trucco Di scavare Fino al Al fondo Della sabbia E poi rompere E poi rompere il blocco Su cui la sabbia È poggiata O Appunto Se togli quel blocco Poi la sabbia cade E quando si scontra Con la Con una torcia Con C'è Certi Item del gioco Non tutti Adesso sto laggando un po' Perché sta Caricando il nether Quando cade Appunto Non Non Cade Normalmente Distrugge la torcia Ma si distruggono i blocchi E la torcia Rimane intatta E se non sbaglio Questa cosa funziona Anche con la gravel Quindi voglio fare un test Visto che siamo nel nether E dovrebbe esserci Della gravel Proprio Qui Ok Sì ce n'è Quindi possiamo fare Una colonna di gravel Che sta su un blocco Qualsiasi E Lo so che tanti di voi Si arrabbiano Perché uso la picca Per minare anche cose Che dovrebbero essere Minate con la pala Però Alla fine Un attrezzo Deve renderci Il tutto più semplice E sinceramente Mi è molto più semplice Usando Questa Questa picca Che utilizzando la pala Vedete che sto facendo Un macello Solo Provando a distruggere un blocco Quindi mettiamo Una torcia qui sotto E Costruiamo La nostra Colonna Verso l'alto Boh Lì non posso andare Più su E ora Quando togliamo Questo blocco I pezzi cadono E si distruggono Quindi quello È il metodo Che utilizzeremo Per la nostra Farm di sabbia E fatemi buttare via Questa graver Perché non mi serve Quindi Non sarà molto difficile Per Per Prendere altre Prendere altre Blazerod Ed xp Non lo farò subito Perché ci serviranno Delle pozioni Un po' speciali Che magari farò Alla fine Di quest'episodio Non ne sono proprio sicuro Però Per non Annoiarvi Di me che vado Fino all'altra parte E arrivo al deserto Stop E torno subito Da voi Come faccio sempre Ok Sono appena arrivato Qua nel nostro deserto E tanti di voi Si saranno chiesti Perché mi sono portato Un secchiello d'acqua Anche se potevo Prendere l'acqua qua Beh L'acqua non c'entra molto Ma il secchiello Ci servirà Per andare Nella Nella nostra Piramide Che abbiamo trovato Qua da qualche parte Se adesso la trovo Perché voglio Prendere il Tesoro Che c'è dentro La nostra piramide E non lasciarvi più Sulle spine Fatemi togliere L'f3 qua Un secondo Che dà un po' fastidio E visto che conosco Già questa piramide So già come funzionano Il trucco Non è difficile Basta rompere un angolo E potete vedere Che c'è un pressure plate Ovviamente Quel pressure plate Sarà una trappola Quindi noi mettiamo l'acqua Arriviamo qui sotto Tostiamo nell'angolo E rompiamo il pressure plate Ed è fatta So che tanti di voi Non pensavano fosse così Così semplice Però in realtà Lo è così semplice E prima di andare avanti Voglio fare una cosa Per contenere quest'acqua E potete vedere Che sotto c'era Della TNT Come immaginavo E non vi voglio ancora Far vedere Cosa c'è Nelle nostre ceste Perché neanche io Non lo so Voglio tenere un po' Un segreto Quindi prima Saliamo di nuovo Perché voglio che Quest'acqua sia Uno stream Continuo E non Acqua che vada in giro Dappertutto Quindi la togliamo Per un secondo Aspettiamo che se ne vada tutta E Ora L'acqua si fermirà In questo buco Perché appunto C'è un buco Che la blocca Quindi inizieremo Da questa cesta qua Essendo la più vicina 9 gold E 10 Oh si La cesta la lasciamo qua Altro gold Quindi siamo già 20 gold Uh Due diamanti E 5 rotta in flash E molto Altro gold Per noi Quindi ora Tutto quello che ci tocca fare È smantellare Questa dannata Trappola Quindi prendiamo tutta La dinamite Che c'è qua E potete vedere Che è praticamente Gratis E sotto Non dovrebbe essercene altra Perché Di solito è solo un layer Ma facciamo un controllo Ok Non ce n'è altra E ora Rimettiamo questa sandstone Come Base Per Il tutto E qua voglio fare così Così si blocca l'acqua Per un secondo Ok Ed ecco fatto Ovviamente L'ho fatta un po' più bassa Perché appunto Abbiamo perso Lo strato di Di Dinamite In questa sandstone Non mi piace Che vado via E quindi Questo è tutto quello che c'è Nella nostra Piramide Tutto quello che si può usare Adesso Da questa piramide È appunto Rubare i blocchi Che non farò Perché non mi interessa Anche se Ora ho distrutto tutto Vediamo Di rimetterlo A posto Oddio Oddio la gravel Ok Com'era così E questo qua Ok Perfetto E poi potete anche rimettere Questo pressure blade Tanto non servirà a niente Ora perché abbiamo appunto Tolto la TNT Quindi in poche parole Queste trappole sono Queste Queste piramidi Sono solo Degli alloggi Più o meno Per persone che Non sanno Dove andarci E magari trovano Una di queste piramide A caso Vicino al loro spawn E ti danno appunto Uno start Un po' più semplice O cose del genere No Lascio Lascio L'acqua Ok Bene Quindi è finito Non c'è nient'altro Da fare qui Da quanto ho capito Non so Ma dovranno Fare tipo un upgrade A queste A queste piramidi Però non so appunto Cosa farci adesso Con questa piramide Se avete delle idee In cosa possiamo Trasformarla O se mi conviene Fare la mia base Qua Non essendo molto Lontana dal mio Portale Perché il mio portale È in quella direzione Lì Non Mi dispiacerebbe Usare una di queste Piramidi Come base Visto che è già creata E dovremo solo Arredare l'interno E in più con Lo stile di Sanson Si anche Va anche bene Con il deserto E Comunque volevo dirvi Che Non ho trovato Un villaggio Sfortunatamente Ma Prima o poi Lo troveremo Quindi Ora Viaggerò a piedi Da casa mia Per trovare un villaggio Se lo voglio trovare E Mentre non registro Ovviamente Se Ne troverò uno Ve lo farò vedere Per appunto Far vedere Cosa troviamo In quel villaggio Se troviamo anche Un Iron Golem Che magari Può ucciderci Con due colpi Come fa di solito E Niente Prima di finire Questo episodio Voglio portarvi A mostrare Un po Le 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 pozioni Che faremo Per prime Quindi Tornerò a casa Ovviamente Sempre tramite Il nostro Corridoio Nel Nether E Lavoreremo A due pozioni Che ci serviranno Non solo Per Battery Blades Ma anche Per Viaggiare Più veloce Nel nostro Tunnel Quindi Arrivo a casa O almeno Alla stanza Delle pozioni E torno Subito Da voi Ok Mentre tornavo Casa Dal Nether Sono riuscito A collezionare Due Blazer Affortunatamente E una Una La useremo Per un altro Brewing stand Che ci servirà Da mettere Dall'altra parte Per avere qualcosa Di uguale Da entrambi i lati E sto vetro Lo trasformeremo In glass bottles Anche se ce ne servirà Un altro po' Quindi vediamo Se riesco a correre fuori Rubare della sabbia Prima che sia Troppo tardi E se mi vedete Un po' laggare Ora è perché Ho il mio secondo schermo Acceso Di solito Quando il registro È spento E ce l'ho acceso Perché c'ho Una chart Una Una mappa Di come si fanno Tutte le Le nostre Pozioni Quindi aspettiamo Un attimo Che faccia quello Ed intanto Vi voglio far vedere Una cosa Che voglio cambiare Quindi ci servirà Dell'acqua Per mostrarvi Cosa voglio fare E voglio cambiare Un po' Il terreno Sotto il Brewing stand Come sapete Tante persone Usano il Cauldron Che è quella Specie di Secchio Che appunto Si usa per Tenere dell'acqua Dentro Però Appunto Bisogna sempre stare A riempirlo Il cauldron Quindi quello Che farò io Ora non sto A rimettere Questi blocchi Qua Sarà mettere L'acqua Qui E lascerò Il centro Vuoto Qua Metterò Il nostro Secondo Brewing stand Vediamo se riesco Ok E metterò Uno stream Infinito Di acqua Così Da poterci Permettere Di Appunto Avere Acqua All'infinito Senza dover Usare Un brewing stand Per riempire Le nostre Glass bottles Quindi È Una cosa Che dovete Considerare Quando Decidete Di fare Il cauldron O appunto Direttamente Una cosa Come la mia Ma vi consiglio Di utilizzare Questo metodo Qua Dell'acqua Infinita Perché appunto Non dovete Mai stare A preoccuparvi Di come Fare il tutto Quindi Le opzioni Che faremo Oggi Saranno Una Della velocità E Beh Tre Tre Della velocità E tre Della 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 Resistenza Al fuoco Ovviamente Tutti i materiali Che ci serviranno Per le pozioni Li sposterò In quella stanza Lì Una volta Che voi Avete deciso Che stile Volete Se questo O l'altro E ovviamente Metterò anche In ordine Lì sotto Per far sembrare Tutto Ok Quindi Quello che possiamo Fare È prendere Acqua Da qua Poi mettiamo Tre bottiglie In ogni Brewing stand E per Iniziare tutte Le pozioni Serve sempre Una Netherworld Che sono Quei specie Di fiorellini Che crescono Nel Nether O nei Cosi del Nether E per La resistenza Al fuoco Ci servirà Una magma cream Che si crafta Appunto Come avete Già visto Con una slime ball E della Della blaze powder Oppure È droppata Da Dai magma cube Che Sono molto rari Nel Nether E fatemi E fatemi cliccare Un attimo Nel mio Secondo schermo E per Quella Della velocità Ci servirà Del Zucchero Che appunto Non è nulla In speciale Però Di solito Si dà i cavalli Per farli Correre Più veloci Velaci Cos'è Velaci E potete vedere Che grazie A quel fiorellino Del Nether Abbiamo preso Delle Accord Potion Che non hanno effetto Però se noi li mettiamo Uno di questi item Quindi la Magma cream E il zucchero O lo zucchero Come lo volete dire Questi si trasformeranno In pozioni La redstone Che ho preso Servirà Per fare Un Per aggiungere Un effetto La glowstone Di solito Aggiunge O Il glowstone powder Aggiunge Forza O Potenza Alla pozione Invece la redstone Ne aumenta Il tempo Di La durata Quindi potete vedere Che dura 3 minuti Quella E 3 minuti Anche questa Quindi Se noi mettiamo Della redstone Il tempo Si aumenterà E come terzo Item Che modifica Le pozioni C'è il Fermented eye Che è quello Che è l'occhio Di ragno Con un fungo E un pezzo Di zucchero Che appunto Mette Il contrario Alla pozione Quindi La fa Diventare qualcosa Di male Quindi potete vedere Che grazie Alla resta Abbiamo preso 3 pozioni Fire resistance Da 8 minuti Invece che 3 E stessa cosa Succederà Con quelle Della velocità Quindi Quello che Faremo nel prossimo Episodio Sarà mettere Un dispenser Di queste pozioni E troveremo Un modo Per creare Molte di queste pozioni Senza spendere Molto tempo E niente Per questo episodio È tutto Ricordatevi Di lasciare Mi piace Per rendere Il prossimo episodio Più lungo E di dirmi Se vi piace più Questo stile O l'altro stile O quello che volete E niente Con questo Ti saluto Bella raga Qui Danifra E ora che mi ricordo Mi sono dimenticato Di dire Prima di salutarvi Il 30 Di questo mese Che è agosto Caricherò Un video Di League of Legends Di una partita mia Fatta con Ash Che è Una di carri Di quelli più semplici Che esista E appunto Sarà un test Per vedere Quante persone Vogliono vedere Questo Quel tipo di video O a Quante persone Piacerebbe vedere Video di League of Legends E niente Volevo solo dirvi Questo prima Di salutarvi Del tutto E niente Con questo saluto Bella